Un'opera rivoluzionaria sarà sicuramente veramente una luce su questo territorio per i giovani ragazzi appunto del comprensorio che vogliono passare a prendere direttamente la professione tra le mani come quella del campo alberghiero. Sì, anche se il momento è di crisi, noi come città metropolitana abbiamo voluto investire tanto sull'edilizia scolastica, in tutti i comuni con progettazioni anche rilevanti come questa a Qualiano per alberghiero e ristorazione che esiste su un territorio strategico perché non è solo il comune di Qualiano dove risiederà questo edificio che tra 18 mesi sarà pronto, è molto bello il progetto, quindi siamo veramente contenti perché in altre città grandi si sta tagliando sull'edilizia scolastica e hanno tante più risorse rispetto a noi. Noi con comportamenti finanziari e amministrativi virtuosi abbiamo deciso di investire soprattutto nell'edilizia scolastica che non è solo formazione, conoscenza, sapere, significa anche il primo presidio per la legalità e per un futuro migliore. Un progetto che potrebbe andare a braccetto proprio nel territorio di Qualiano a pochissimi passi da un litorale che non è sfruttato proprio al meglio come potrebbe essere sfruttato? Io faccio il sindaco di Napoli, questo lo dovete chiedere agli amministratori locali, poi faccio il sindaco della città metropolitana e per le materie che competono alla città metropolitana non farò mancare il sostegno anche agli amministratori locali perché la rete, la collaborazione e la cooperazione tra i sindaci della città metropolitana sarà un punto di forza dei prossimi cinque anni perché l'Unione fa la forza, al di là delle posizioni politiche noi affrontiamo problemi che spesso sono molto simili e quello del mare, del litorale è sicuramente uno dei nodi strategici per il rilancio definitivo della nostra area metropolitana. Napoli e la provincia di Napoli è il futuro rispetto alla nazione, lei come lo vede questo futuro? Lo vedo di lotta, lo vedo bene e lo vedo che l'Italia si capovolge, cioè il sud sarà protagonista del destino del paese dei prossimi anni, io sono convinto che dal mezzogiorno verrà il riscatto del nostro paese un po' perché siamo abituati a soffrire, un po' perché abbiamo dignità, abbiamo coraggio, siamo autonomi e stiamo riscoprendo quell'orgoglio e quel senso di appartenenza che fa molto bene a noi e io credo anche all'Italia. Grazie. Grazie.